Però poi inizia la prima guerra mondiale e il governo italiano per sostenere la spesa della macchina bellica italiana deve far fronte a un debito pubblico che si innanza fino al 160% che arriva negli anni 20. Quindi nel 1920 tocchiamo il nostro record personale, da qui in poi non si raggiungerà mai più una cifra di questo tipo. Chissà se in futuro potremo abbanderci. Ciuff ciuff! Hype Train! Ah no, questo non è l'hype train ma il treno del debito pubblico! Perché sì, eravamo partiti con un debito pubblico pari al 135% nel 2020 e alla fine del 2020 è successa qualcosina nel frattempo e nella Nadef degli ottobre 2020 si prevede un debito pubblico che arriverà al 158% raggiungendo i limiti massimi mai raggiunti del debito pubblico nella storia italiana raggiunti solo nel 1920. Cosa comporterà tutto questo? Tante domande e tante risposte in questo video. Partiamo! Innanzitutto prendete quella cifra, 158% di debito pubblico su PIL prevista dal governo e la Nadef e stracciatela. Avete sentito parlare, no? Del DPCM del 25 ottobre. Praticamente è un mezzo lockdown. Ristoranti la sera solo da sporto, teatri chiusi, cinema chiusi e palestre chiuse. Ed io, che ero pronto al ritorno in palestra dopo l'infortunio di una settimana, ecco dove va il mio borsone. È stato già confermato però dal governo che tutte le perdite derivanti dalle chiusure verranno ricompensate dallo Stato. Quindi maggiori spese significa aumento del debito pubblico che molto probabilmente arriverà oltre la fatidica cifra del 160% del PIL, stabilendo un nuovo record italiano. E quindi lo so cosa state pensando voi, vecchi lupi di mare di Whatsapp Economy o nuovi adepti che hanno appena cliccato il tasto iscriviti a questo canale. Perché lo so, l'avete cliccato il tasto iscriviti, vero? Questo dizio qui... Realista o urlo di disperazione? Perché un'esplosione così repentina del debito pubblico fa pensare a un film già visto. Ehm, no, Montatore, non mi sto riferendo a quel film. Ah no? Ah, ok, risolvo subito. Oh, ora ci siamo. Crisi di finanza pubblica di alcuni stati europei nel 2011. Ora, specificiamo una cosa. Si è tanto parlato di questa statistica dal 2008 in poi, il rapporto debito pubblico su PIL, deficit, eccetera, eccetera. Però molte poche volte si è detto che in realtà questa cifra presa da sola non ci dice tantissimo sulle condizioni di un'economia di un paese. Anche perché se prendiamo l'unico dato annuale ci dice veramente poco, una semplice fotografia del paese che non riesce a rappresentare le condizioni economiche di quello stato. A noi ci piacciono i film, come abbiamo appena visto, e quindi è molto più interessante, anche se comunque limitata come visione, prendere l'andamento del debito pubblico su PIL negli anni. Inoltre è importante non stigmatizzare la cifra. Il 60% di debito su PIL, il 135, il 160% di per sé non significano nulla. Ci sono stati paesi che sono falliti con un debito pubblico su PIL pari al 60% e altri paesi, come ad esempio un caso particolare è il Giappone, che col suo debito pubblico superiore al 200% rimane ancora lì con le proprie finanze pubbliche abbastanza stabili. Per chi volesse approfondire il tema debito pubblico in Giappone ho fatto un'ora di live per gli abbonati. Quindi giù in descrizione potrete abbonarvi, soffrire di questo contenuto e inoltre supportare la mia attività di divulgazione economica. Fatte queste importanti precisazioni, adesso andiamo a vedere se effettivamente il debito pubblico italiano sarà sostenibile in futuro. Partendo dal breve periodo, che per breve periodo in questo caso intendo i primi due anni, quindi fino al 2022. Nel breve periodo il debito pubblico italiano non dovrebbe avere particolari problemi nella sua sostenibilità e questo lo si può affermare analizzando i vari indici che attualmente abbiamo per quanto riguarda la tematica del debito pubblico. Lo spread BTP Bund, di cui il significato ormai conosciamo bene, è livelli molto bassi, addirittura inferiori rispetto al periodo in cui era al potere il governo giallo-verde. Lo stesso si può dire per i Credit Default Swap, o meglio conosciuti come CDS, che sono praticamente dei titoli assicurativi nei confronti degli investitori nel caso in cui qualche istituzione finanziaria o Stato dovesse fallire. Più è alto questo valore e più c'è il rischio di fallimento. Attualmente i CDS, dopo un picco dovuto alla pandemia, si sono stabilizzati ad un valore non preoccupante. Il 23 ottobre l'agenzia di rating Standards & Poor's ha confermato il rating dell'Italia, affermando che attualmente non ci sono particolari preoccupazioni per la stabilità finanziaria del paese. Per ultimo, la stabilità del debito pubblico italiano si può vedere anche dal fatto che tutte le emissioni di titoli di Stato eseguite dal governo in questo periodo di pandemia sono state apprezzate ampiamente dal pubblico e addirittura qualche giorno fa i BTP a tre anni hanno raggiunto un rendimento negativo, cosa che non era mai successa prima. Sicuramente a questi risultati hanno contribuito la politica monetaria espansiva della Banca Centrale Europea e anche la Commissione Europea che ha abolito, almeno temporaneamente, tutti i patti di stabilità e crescita riguardo il deficit e il debito pubblico, ma anche proponendo dei programmi di spesa pubblica a livello europeo che potrebbero andare ad aiutare le finanze pubbliche dei singoli paesi, soprattutto quelli più in difficoltà. Quindi, almeno nel breve periodo, il tema debito pubblico non ci dovrebbe preoccupare più di tanto. Ma nel lungo periodo? A questo ci ha pensato il governo. Infatti, all'interno della Nadef 2020, approvata a metà ottobre, viene definito come un obiettivo di finanza pubblica quello di raggiungere nel 2030 un livello di debito pubblico su PIL pari al periodo pre-Covid e quindi avere un valore pari al 135%. Questo obiettivo di rientro di finanza pubblica da parte del governo è possibile raggiungerlo grazie degli investimenti mirati che permetteranno all'Italia di ottenere dei tassi di crescita del PIL all'interno del decennio 2020-2030 pari al doppio rispetto a quelli ottenuti nel decennio 2010-2020. Inoltre, ci si aspetta una politica monetaria espansiva per lungo tempo e questo concederebbe all'Italia dei tassi di interesse sul debito pubblico bassi e stabili ancora per molto e ovviamente questa è una condizione favorevole per poter abbassare il debito pubblico. Quindi tutto molto bello, speranzoso e rassicurante e se dovessero essere così in futuro le cose, molto probabilmente anche in lungo periodo la questione debito pubblico non dovrebbe essere un problema perché una traiettoria di rientro rassicura i mercati e rende la finanza pubblica sostenibile e solida. Peccato che c'è un problema. Le stime fatte da ogni governo all'interno di DEF e NADEF sono sempre estremamente ottimistiche. Per dimostrarvi quello che dico vi mostro un grafico che confronta le stime fatte all'interno di DEF e NADEF con la realtà dei fatti per quanto riguarda il rapporto debito pubblico su PIL. Le linee tratteggiate equivalgono alle stime fatte dai vari governi che si sono succeduti per quanto riguarda la traiettoria del debito pubblico su PIL e ogni stima ha una traiettoria decrescente dopo il primo anno. Mentre la linea rossa è continua e il reale valore del debito pubblico su PIL anno dopo anno che come vediamo ha una traiettoria crescente e non decrescente come ogni DEF e NADEF ha previsto durante tutti gli anni. Quindi in bocca al lupo a prevedere il futuro tramite i numeri della NADEF. A proposito di lupo, sapete il detto il lupo perde il pelo ma non il vizio. Seguendo la logica di questo detto potremmo prevedere il futuro per quanto riguarda il debito pubblico italiano andando a vedere cosa è successo nel passato. E in questo senso ci vengono d'aiuto due economisti Martin Lark e Stefano Santagroce. I due economisti hanno studiato quanto ogni Stato riesce a rispettare le tanto temute regole fiscali europee. E i risultati sono che le tanto temute regole fiscali europee eh, poi non è che vengono rispettate più di tanto. I due economisti hanno notato che le regole fiscali sono rispettate solo nella metà dei casi osservati. Inoltre in questo senso ci sono grandi differenze tra uno Stato e l'altro. Infatti se in Lussemburgo, Svezia o Finlandia o Irlanda le regole fiscali sono rispettate al contrario in Portogallo, Grecia, Italia o Francia il più delle volte queste regole fiscali non vengono assolutamente rispettate. Vi lascio il link di questa ricerca in descrizione se volete approfondire altrimenti per gli abbonati faremo una live tra qualche giorno dove leggeremo insieme questo articolo. Perché ci stiamo soffermando su questi dati? Perché si può costruire una correlazione tra attitudine di un paese nel rispettare delle regole fiscali e andamento futuro del proprio debito pubblico. Ovviamente questa correlazione è inversa e cioè più un paese rispetta delle regole fiscali e tendenzialmente nel futuro il suo debito pubblico dovrà diminuire. L'Italia in questo senso non è messa benissimo. L'Italia in questo senso non è messa benissimo. Infatti, come abbiamo visto, l'attitudine di questo paese nel rispettare le regole fiscali europee è pari solo al 29%, penultima solo dopo la Francia all'interno della classifica dell'eurozona. E quindi, dopo questa analisi, possiamo dire che nel lungo periodo il debito pubblico italiano sarà insostenibile? Beh, io non mi spingerei a tanto. Sicuramente le proiezioni che ha fatto il governo riguardo il debito pubblico entro il 2030 sono estremamente improbabili. E, come abbiamo visto, la propensione dei governi a non rispettare le regole fiscali europee pone in serie a crisi l'eventuale sostenibilità del debito pubblico in futuro. Ma tutto dipende. Ciò potrebbe cambiare. Magari, da qui in avanti, i governi che si susseguiranno in futuro decideranno di portare avanti la battaglia riguardo a qualche tipo di sostenibilità fiscale in modo da evitare ulteriori situazioni come quella che si è creata nel 2011. Oppure no. È tutto in mano ai governi italiani. Come sempre è stato fino ad adesso. Ma un barlume di speranze in realtà c'è. Infatti, con il Next Generation EU ci sono numerose risorse che potranno dare un nuovo slancio all'economia italiana. Al contrario di quanti molti pensano, per accedere a questi soldi l'Italia dovrà sottostare a numerose regole da parte della Commissione Europea che avrà il compito di controllare come queste risorse verranno spese in modo da evitare qualsiasi tipo di spreco. E quindi la speranza è che i governi italiani, anche grazie all'aiuto esterno dell'Europa, riusciranno a ribaltare l'economia di questo paese. Anche perché la promessa di raddoppiare il PIL di questo decennio rispetto a quello passato non si fa da sola. Ci vogliono delle politiche adatte e ci vuole una politica che non rifà gli stessi errori fatti già in passato. E all'interno di queste politiche rientra sicuramente la sostenibilità del debito pubblico. Sarà così? Non sarà così? Lo scopriremo solo vivendo. Per adesso io vi saluto, vi ringrazio, ringrazio gli abbonati che supportano questo canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!